Atlantic City è un luogo di divertimento, è nata per consentire alla gente di distrarsi dai propri fani. Cristo Santo, uccidetelo e basta. Vai! Ritorna la più cruda, spietata, non si tratta di soldi naki ma di vendetta e corrotta serie firmata a HBO. Boardwalk Empire, la seconda stagione, da venerdì 20 alle 21 e 10, solo su Sky Cinema 1. Buona visione, da Sky Cinema.